Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo sapete, io sono malato di meccaniche, di modifiche e ogni tanto devo cambiare. Ho voluto provare, visto che ho cambiato il manubrio e ci ho fatto anche la recensione, ho voluto cambiare le manopole. Io come manopole, lo sapete, avevo le ruffie, c'è scritto anche, ci fece anche un video con la miglior manopola e a tuttora è la miglior manopola, perché per eccellenza le ruffie sono le manopole. Però volevo cambiare e poi queste manopole qua sono molto a contatto con il manubrio, per ciò che succede, che ogni minima scossone, botta, si accusa tanto, perché è proprio para para al manubrio. Poi oltre a questo volevo cercare le manopole colorate. Ieri, mentre, oggi, mentre, ieri ero in attesa del manubrio curo nuovo, che ho cambiato da oro a nero, perché oro non mi entusiasmava, ho ordinato tre manopole, tre marche diverse, ma sempre a colore giallo, perché in questo periodo non mi piace il giallo, vede, sua bicicletta. Uguale alle scritte, praticamente, che ho dei Mavic, delle Crocs Max. Bene, da queste tre manopole che ho preso, mi sono tenute queste qui, che ora vi faccio vedere, perché sono particolari, sono fighe. Questa qua è la manopola, ci sono quattro colori, gialla, nera, blu e non mi ricordo quell'altro colore. Ho scelto questa, dalle tre che ho ordinato, perché, praticamente, è spugnata sotto e poi sopra ha una copertura lucida di tipo silicone. Il suo costo è, il loro costo è di 17 euro circa, vedete le scritte del Crocs Max. Adesso mi dovrebbe arrivare pure un, domani, un nuovo porta borraccia, che poi vedo com'è, in caso mai ci facciamo la recensione, se a qualcuno c'è un porta borraccia. La manopola, torno alla manopola, è semplice da inserire, abbassa un pochino di alcol, o alcol isopropilico, oppure un po' di acqua e sapone. Una volta inserita la manopola, non si muove più, è proprio salda al manubrio. Diciamo che a me è piaciuta molto la struttura, l'unica cosina che poco o meno mi è piaciuta è il tappo che va all'interno, che sì, è incastrato, però a lungo andare poi questi tappi, lo sappiamo tutti, che tendono a uscire. O ci si mette un po' di silicone, o a lungo andare, di solito tendono ad uscire. Però la manopola vale, ve lascio il link in descrizione, se la volete andare a vedere, e stanno a 17,50 euro. Hanno delle buone recensioni, in più ho potuto testare con mano delle tre manopole che ho preso, quelle che avevano il materiale migliore. Non so quanto durerà questo bel acceso giallo, però insomma poi quando si rovinano, si tagliano, mi se ne mettono nuove. E niente, spero che vi piacciono. A me è piaciuto molto, soprattutto il contatto con la mano, la cosa base, perché me l'ha fatta scegliere. Ok, con questo nuovo video vi saluto. Queste qua ovviamente me le tengo perché questa qua è una manopola che costa 26 euro, perciò quando mi stancherò del giallo, ci rimette Marufia. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon caldo a tutti perché si schiatta, si schiatta proprio. Ciao!